Francesco Russo apre le porte agli accordi con le altre liste, mette in evidenza che la voglia di cambiamento è da equiparare ai voti che ha collezionato il centrodestra e mette quindi la palla al centro per il secondo tempo di questa corsa a sindaco, fissando il risultato attuale sullo 0-0. Siamo al secondo turno e siamo 0-0 palla al centro. Sommando le mie liste a quelle che hanno lavorato per un cambiamento, su cui ci siamo trovati in sintonia in queste settimane, penso ai ragazzi di Adesso Trieste, ai 5 Stelle, alla sinistra ambientalista, si arriva al 45,3. Come è noto Di Piazza è arrivato al 46,9. Quindi 45,3, 46,9 vuol dire che siamo sostanzialmente alla pari, si riparte e sarà un photo finish. I conti proposti oggi, seppur non corrispondenti alla realtà dei fatti, in quanto illustrano un conto matematico preciso su chi andrà a votare e cosa, l'aspetto che prevedere è letteralmente impossibile, erano secondo Russo una metafora della volontà dei cittadini di scegliere un'altra amministrazione. Ed ecco perché Russo si propone come collettore di questa corrente. Abbiamo lavorato tutti con le nostre specificità, le nostre sensibilità, il nostro dato generazionale, ma l'obiettivo vero è cambiare questa città e dare un'ambizione che in questo momento non ha avuto. Tornando agli elettori, lo scenario che si proporrà è realmente imprevedibile. L'affluenza sarà alta? Gli elettori sceglieranno convintamente un candidato? Oppure, il meno peggio, le alleanze aperte da Russo? Convinceranno l'elettorato? Certo, così come Roberto Di Piazza deve dare per scontato che i suoi tornino a votare, cosa che non è scontata perché la sua coalizione già non lo ha appoggiato in toto, lui ha perso qualche punto rispetto alla sua coalizione. e io immagino anche per le difficoltà interne che ci saranno che farà fatica a riportarli tutti quanti ai seggi.